È un anno che facciamo vaccini e la nostra, diciamo, tra virgolette, soddisfazione sarebbe quella di vedere più gente che si vaccina, anche perché sappiamo che ci sono molti che ancora non hanno fatto neanche la prima dose. Oggi possiamo dire anche di avere un nuovo vaccino, il nuovo AX, che dovrebbe essere più sicuro nei confronti di quelle persone che sono un po' titubanti. Abbiamo avuto una richiesta, ci fa anche un po' piacere questo, visto che sono così resti a farlo, però purtroppo non abbiamo potuto farlo perché questo è un vaccino che si apre, e poi si devono prendere, prelevare le dieci dosi e il vaccino non può stare aperto più di sei ore. Quindi fare una vaccinazione non è stato possibile, però noi ci siamo organizzati, stiamo facendo un elenco di quelli che vogliono fare questo vaccino, che è più sicuro per chi ha delle titubanze, paure, e arrivate a dieci persone li chiameremo per non avere spreco di vaccino. Dottoressa Schipani, c'è poca gente, dobbiamo dire, però dovrebbe aumentare la presenza di persone, visto che è arrivato anche il nuovo vaccino? Sicuramente, la gente si deve sensibilizzare ancora di più, anche perché un nuovo vaccino è un lisato proteico, è molto più sicuro, e sicuramente arriveranno se vengono benedotti sul nuovo vaccino. Per quanto riguarda, ad esempio, la quarta dose, comincia ad arrivare qualche paziente fragile che ha bisogno di farla? Da stamattina, quando ci sono io, non ho visto nessuno. No, non è arrivato nessuno per il momento, poi successivamente si vedrà. Grazie. Grazie.